Si rinnova l'appuntamento di Natale con la città di Agropoli, dal 1 dicembre al 6 gennaio 2020, lo straordinario evento delle feste natalizie. Il Natale delle meraviglie, percorsi enogastronomici, mercatini, animazione, il castello incantato, la casa di Babbo Natale, il presepe vivente. I percorsi coinvolgeranno le strade e le piazze della città e ancora mostre dei presepi, l'installazione, la luce di Francesco, Babbo Running e il gran concerto di Capodanno. Il Natale delle meraviglie, ad Agropoli, dal 1 dicembre al 6 gennaio 2020.